Pro? Sì. Davvero? Sì. Lo fai? Ciao. 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 Come state? Bene. Benino. Bene, bene. Ok, la prima domanda è, quella è la carne umana che si nomina da solo? Un organo umano che si nomina da solo? Che si nomina da solo? Sì, si. Si nomina da solo. Oddio, queste cose su YouTube, l'ho già visto. C'è una figura di... Eh, c'è una figura di... L'organo umano che si nomina da solo? Da solo. Sì. È semplicissimo. Si nomina da solo. Lo usiamo tutti i giorni. Anche lo stiamo usando adesso. La voce? No. Tu ti dici? No, la lingua. La lingua e la bocca è uguale, bravo. Vabbè, la voce. Ho pensato alla voce, però... La voce è sempre la... Esatta? Sì, sì, esatta. Allora, siete pro o contro la masturbazione? Pro. 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 Perchè? Perchè? Sì, c'è una donna se... Prova piacere... Perchè no? Perchè è normalissimo? Esatto. Una cosa normale. Tallini prenda in palestra, Tallini pure prima. Allora... Mastubi? Non si fanno queste domande. Non si fanno. Queste domande non si fanno. Queste domande non si fanno. Si fanno. Abbiamo risposto. Se vuoi rispondere... Se vuoi rispondere, rispondi. Se non vuoi rispondere... È una domanda personale. Non si può sapere, non si può sapere. Ok, va bene. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao Fra. Ciao. Come fa? Tutto bene. Tu a posto? Sì. Allora Fra, quella è l'organo umano che si nomina da solo. Il? L'organo umano che si... L'organo umano che si illumina da solo? Sì. Lo sai, lo sai. Oddio. L'organo umano che si illumina da solo. Sì. Il cuore? Eh? Il cuore? Il cuore. Il cuore parla? Non so. Che si illumina da solo? Sì. Si illumina da solo. Gli occhi? Si illumina, eh? Si illumina. Gli occhi? No, sì. Non illuminare. Il luminare. Il luminare. Ah, nominare? Sì. L'organo che si nomina? Sì, da solo. Si nomina da solo? Sì. Oddio. Dottoressa, lo sai? L'avevi detto prima. Gli occhi? Sì. Gli occhi. Diciamo gli occhi. Non è gli occhi. È la lingua, la lingua. Ah, la lingua. Però? Sì. Davvero? Sì. Lo fai? Poco, perché sei stato con lei, quindi... Bravo, bravo, bravo. Aiuta nella relazione o no? Ma, dipende. Se ogni tanto, starebbe anche aiutare. Bravo. Si vede da un po' la gente, credo. L'ultima domanda... È una domanda facilissima. Vai. Cosa vuol dire Covid-19? Oddio. Covid-19. La definizione non la so. La definizione non lo so. Va bene. Grazie. Niente, grazie a te. Ciao ragazzi. Bella. Bella. Ciao. Allora, ragazzi, quella è l'organo umano che si nomina da solo. Come? L'organo umano che si nomina da solo. Si nomina da solo? Si nomina da solo? No, no, no. Ah, cazzo, questo... Buciato? No, dai, è un indovinello. Quella è l'organo umano che si nomina da solo. Poi io sembra stupido per un indovinello. Eh... Se si nomina da solo... No, mi ne da solo... Dai, con te. Sì. Aspetta, ci sto pensando, ci arrivo... Il cervello. Eh? È il cervello. Va benissimo. L'organo umano che si nomina da solo. Lo sai, dottoressa? La lingua? Pensavo anch'io. Anch'io pensavo la lingua, è troppo scontata. Eh, sennò... C'è qualcosa che comunque... Alla fine il cervello pensa... Puoi dire con il linguaggio? Il cervello... È qualcosa di brutale, come si nomina da solo. Lei è... Sì, è la lingua. C'avevo pensato. Assurdo. Però mi sembrava troppo scontata, comunque. Allora, la prossima domanda è... Siete pro o contro la masturbazione? Pro? 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 Perché? Perché no? Questa è la domanda. Perché sei pro? Ma perché non dovremmo essere... Perché dovremmo essere contro? Un po'. Sì, esatto. Cioè, alla fine è una pratica che va avanti da anni. È una cosa naturale. Ok. Mastubi? No, no, ma io... Ultimamente no. Ci si può sostenere. Perché aiuta? Sì. Quando uno è single si aiuta? No, non sono single, mi dispiace. Non sei single, sì. Io sono single, però non aiuto. Ah, te sei Gesù. Sì, molto probabilmente. Te? Che cosa? Non sei single. Sì. Però lo fai? Ma siete single voi due? Sì. Ah, bravi! Questo è un destino, eh? Cavolo, non... Non ce l'hai il suo numero di telefono? È certo che ce l'ho, il suo numero di telefono. È perché non... Non l'avevo in 4 anni. Siamo usciti insieme. Davvero? Non l'avete capito ancora. Dai ragazzi, datti da fare, eh? Io? Sì, muoviti e sentire. Eh, lo sicuro ti provo, eh. Non dico che è facile, ci vuole tempo. Devi essere aperto, dirglielo adesso. Adesso. Sei morto. Ciao. Ma ti chiami? Chiara. Chiara, di dove sei? Siciliana. Ah, brava! Lei è africana? Quasi africana. Allora, te sei pro o contro la masturbazione? Pro. Pro, ok. Quindi lo fai? Non ti rispondo, è troppo personale come domanda. È implicita la mia risposta. Secondo te aiuta nella relazione? Ma se aiuta a livello personale, di conseguenza aiuta anche a livello relazionale. Ok, va bene. Secondo te quante volte la faccio a settimana? Tu? Non lo so. Te invece? Non rispondo a questa domanda. Perché? Perché è troppo personale. Ok, va bene. Ci credo. Va bene, ragazzi. Dai. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Secondo voi siete pro o contro la masturbazione? Pro. 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 Perché? Perché serve a autogratificarsi. Perché è giusto, è uno sfogo. Giusto. Dai? Sì. No. Quante volte lo fai a settimana? Però dai, una volta al giorno. Cinque volte al giorno. Cinque volte al settimana. Cinque volte al settimana. Cinque volte al settimana. Cinque volte al settimana. Sì. Anche tre volte al giorno ci sta. Sì e no. Dai, è successo però non troppe volte. Ti spiego perché. Vai. Uno al mattino. Uno al pomeriggio. Sì. Sì. Quindi va bene. Quindi va bene. Grazie. Grazie. Sì. 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 Sto un attimo parlando poi. Ok, ok. Stai tranquillo. Dov'è che vado a mangiare? Vedo qui quelle usine che mi piacciono e al massimo c'è. Molto buono. Si sente? Signora? Sì. 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 Tutto il posto? Ti vedo bene? Eh? Ti vedo bene? Che cosa? Ti vedo bene? Ah. Allora. Come ti chiami? Isabella. Isabella? Sì. Ah. È un bel nome. Io mi chiamo Omo. Quale ragione? Sei di Rimini qua? Sì. Ah, riminese? Nata qua. Fumi? Eh? Non ho mai fumato? A volte però... Ok. Capito. Eh? Io non fumo. No. Però io non fumo. Ah. No, no. Non ti interessa? No. Come mai? Eh? Non ho mai provato? No, ma non mi interessa. Quanti anni hai? 16. 16 anni. 16 anni? Sì. Ancora giovane. Quindi non lo devi fare, eh? Eh? Quindi non lo devi fare, eh? Eh? Sì? Allora ti faccio vedere cosa intendevo. Aspetta. Sei tu? No? No. Brava, brava. Mi piacciono le cose che hanno... la gente che sono coraggioso. Questo intendevo. Ti va? No, grazie. Cioè, non... Non ho... Ma cosa pensavi? Niente. Dire... No, no. No, no. No, pensavi che era la... Ma... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si... C'è scritto... C'è scritto co... Eh? No, si. No. Cola che c'è scritto. C'è? Sperò che ti entendevo. No. C'è? Va bene? C'è? 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 C'è?